Ciao a tutti, noi siamo Uole No, anche noi ci sibiremo a Casa Sanremo Live Box, il cuore pulsante della musica italiana dedicata agli artisti emergenti. Ci vediamo a Sanremo! È la band dei Uole No che approderà a Sanremo per Casa Sanremo Live Box, vetrina nazionale di rilievo per gli artisti emergenti, dal 7 all'11 febbraio. Hanno superato le selezioni lo scorso novembre a Caltanissetta, l'Accademia Formazione Musicale di Ernesto Trapanese, partner ufficiale di Casa Sanremo, arrivando così a potersi esibire direttamente a Casa Sanremo Live Box, vetrina d'eccellenza, un progetto musicale nato due anni fa per la passione, per la musica che unisce questi quattro ragazzi, che tra sonorità, punk rock e musica pop, hanno trovato uno stile tutto loro. I quali no sono Carla Giordano alla voce e Marcello Lachina alla chitarra elettrica, Filippo Gruttadauri al basso elettrico e Gaetano Puccio alla batteria. Il gruppo è nato circa un anno e mezzo fa, diciamo per divertimento, poi si è trasformato in una sorta di lavoretto estivo tramite serate nei vari locali, e adesso speriamo di farlo diventare qualcosa di più serio anche con questa occasione che ci è stata data. Questa occasione è nata, diciamo, per caso, perché in una di queste serate estive abbiamo conosciuto Manuel, che ci ha proposto di iniziare a lavorare a un album, un piccolo EP. Successivamente, iniziando a lavorare a questo album, è nato fuori un inedito che a noi piace molto, e abbiamo deciso di proporlo a Casa Sanremo Live Box. Abbiamo superato le audizioni e fortunatamente adesso a febbraio saremo lì a farlo sentire, comunque agli entri dei lavori. Il sogno nel cansetto ad oggi è quello di continuare su questa strada e farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti. Dalla scorsa estate hanno iniziato a lavorare con l'etichetta FM Wave del produttore Manuel Scarano al loro primo EP che conterrà 5 brani, 2 originali, 3 cover e sarà anticipato dall'inedito Fairy Tales. Grazie a tutti!